Hanno divelto la saracinesca di un'officina meccanica ed hanno rubato un'automobile. Il furto è stato messo a segno l'altra notte a Battipaglia nel rione Sant'Anna. I ladri hanno forzato la serranda, sono entrati ed hanno portato via l'auto. I malviventi, si presume, più di uno dopo aver rubato la Fiat Punto, si sono preoccupati di richiudere la saracinesca, probabilmente per non destare sospetti. Il furto è stato scoperto al momento dell'apertura dell'officina meccanica, verso le 8. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Battipaglia, che dopo i rilievi del caso hanno avviato le indagini per tentare il recupero del veicolo e individuare i ladri.